avrei voluto ufficializzare la collaborazione in modo diverso, magari con una bella visita presso la loro sede così da farvi vedere anche un po' la parte produttiva e approfondire un po' i prodotti però il periodo non lo permette, quindi ufficializzo la collaborazione anche per quest'anno con Oxiburn con un bel unboxing per tutte le attività di quest'anno ho avuto oltre a dei fighissimi adesivi un po' di articoli interessanti allora partiamo con gli accessori calzini invernali, da sport invernali tendenzialmente sci o ambito montano calzini da bici e calzini diciamo generici da outdoor poi qua abbiamo un set completo di biancheria termica con maglia a maniche lunghe collo alto e pantalone lungo dello stesso set queste hanno range di utilizzo meno 15 più 25 e sono tendenzialmente per tenere caldo dividiamo le cose per argomento tendenzialmente questi sono articoli da montagna qua metto gli adesivi poi ho una maglia da bici per completare l'outfit dei pantaloncini che già ho e questo è l'outfit da bici ultimi prodotti sono maglia cool comfort da running e pantaloncino corto sempre da running o comunque direi che qua siamo anche nell'ambito multi sport come per la biancheria termica invece da temperature un po' più fredde che tiene caldo questi sono in range di utilizzo da 0 a 40 gradi pantaloncino corto che tante volte io uso anche sotto al pantalone corto un po' più largo e 10-40 gradi quindi diciamo con questi articoli copro praticamente tutto il calzino da trekking o comunque multi sport outdoor ve l'avevo già mostrato e chiudiamo con biancheria intima da bici ma che posso far girare per tutti gli altri sport e le altre attività non possono mancare due mascherine in questo caso sono due mascherine bianche con il porta mascherina per ciascuna delle due eccola qua questi quindi sono un po' di prodotti oxyburn che utilizzerò quest'anno per fare un po' di attività varie dal running alla bici a sport invernali o qualsiasi altra cosa appunto che richieda un minimo di abbigliamento sportivo in descrizione a questo video vi lascio il link allo shop di oxyburn e un codice sconto che mi è stato dato da farvi utilizzare per gli acquisti appunto tramite il loro e-commerce vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale con il tasto qua sotto lasciare un like se vi è piaciuto il video un commento se volete chiedere qualcosa lasciare qualche impressione questi sono un po' di prodotti che utilizzerò quest'anno e vedrete sicuramente nei prossimi video non mi resta che uscire ad allenarmi o a fare attività divertenti grazie a oxyburn e ci vediamo al prossimo video ciao